Artisti e pittori del 1800 Pierre Auguste Renoir 1841-1919 Édouard Manet 1832-1883 Edgar Degas 1834-1917 Pozzesan 1839-1906 Claude Monet 1840-1926 Paul Gauguin 1848-1903 Claude Sarra 1859-1891 Éric de Lourdes-Lautrec 1864-1901 Vincent Van Gogh 1853-1890 Giovanni Fattori 1825-1908 Giovanni Boldini 1842-1931 Giovanni Segantini 1858-1899 Grazie per la котמעES! Grazie per la visione!